Del vecchio lunedì riaprirà Corso Vittorio Emanuele alle auto, ai mezzi pubblici della GTM con il weekend invece che vedrà questa importante arteria chiusa al traffico e dunque isola pedonale. Diciamo che dopo aver riflettuto ampiamente in tutto questo periodo e dopo aver attuato tutte le misure che si sono rese necessarie per rendere sicura quell'arteria al passaggio dei mezzi pubblici e privati, da lunedì potrà essere riaperta a questo scorrimento veicolare. Un'apertura che consentirà di alleggerire il traffico rispetto ad altre arterie ma è un'iniziativa che si completerà tra qualche giorno, diciamo tra qualche settimana, quando saranno terminati anche i lavori che riguarderanno la strada che passa davanti alla stazione ferroviaria, la Bazzani-Pavoni, che comporterà anche l'eliminazione della rotatoria di via De Gaspari, via Teramo. Del vecchio su Corso Vittorio i mezzi pubblici transiteranno in entrambi i sensi, le auto private solo in un senso? Questa è la decisione che è stata assunta, ma ce n'è anche un'altra che era stata già presa inizialmente e che oggi entra in vigore, o meglio, entrerà in vigore dal primo prefestivo che sarà sabato 6 di dicembre, e cioè nei prefestivi e festivi Corso Vittorio Emanuele tornerà a essere un'isola pedonale. Contemporaneamente alla riapertura di Corso Vittorio entrerà anche in funzione il sistema delle telecamere che la passata amministrazione ha installato con un progetto finanziato dal Ministero. Sono 12 varchi, al momento le utenze che circoleranno sono quelle già accreditate presso la Polizia Municipale, ma successivamente, diciamo dal mese di gennaio, tutti dovranno richiedere le nuove autorizzazioni e quindi in quel momento si vedrà effettivamente chi avrà diritto e chi no. Aggiungiamo ancora un'ulteriore cosa, e cioè che in questo frangente, in questa ZTL ci saranno anche due finestre, dalle 6 alle 9 la mattina e dalle 14 alle 16 per lo scaricomerci. Grazie. Grazie.